Sviluppo, occupazione, tutela del territorio e produzione a chilometro zero, oltre alla salvaguardia dell'ambiente circostante. Il percorso del GAL a Nuovo Fior d'Olivi è giunto alla conclusione nell'appuntamento che si è tenuto nella Sala degli Specchi del Palazzo di Città del Comune di Bitonto il 12 ottobre. I comuni facenti parte del gruppo di azione locale hanno sottoscritto in maniera definitiva ed indelebile i patti di lavoro che si sono articolati nei vari appuntamenti di lavoro tenuti in questi ultimi mesi. Soddisfazione da parte di tutti i rappresentanti locali che hanno capito quanto importante sia una struttura adeguata ma soprattutto attiva per la formazione e la realizzazione di tutti i progetti discussi. La grande soddisfazione è che abbiamo avuto in questo mese molteplici incontri, più di nove. Ci siamo rapportati con diverse realtà che vanno in tutti i campi dalle confederazioni sindacali agricoli ai privati, ai privati commercianti alle associazioni, al mondo del volontariato in maniera che le linee guide che la Regione ha indicato nei nostri confronti sono venuti fuori delle indicazioni molto concrete. Si parlerà del distretto del cibo, si parlerà di accoglienza turistica, si parlerà di alzamento della qualità delle produzioni agricole e non agricole, anche manufatturiere, quindi pensiamo a Terlizzi per la ceramica e ad altri paesi agricoli dell'entroterra per la trasformazione di prodotti. Si parlerà sempre di un sistema turistico da rafforzare. A parte il discorso turistico, come sempre, turistico ricettivo per Giovinazzo, però devo dire che stavolta guardo con molta attenzione allo sviluppo rurale, nel senso che Giovinazzo è vero che è sviluppato dal punto di vista turistico ricettivo per il mare, però ha una storia anche dal punto di vista delle strade rurali, dell'agricoltura e di quello che ne consegue. Alla base c'è la consapevolezza di intervenire e di reagire in rete con tutti gli altri sindaci e con i comuni, perché alla base c'è un mondo rurale che ci aspetta e che ha bisogno di risposte da noi e noi siamo pronti qui insieme a sostenerli e a contribuire. Ci auguriamo per Terlizzi e per gli altri sei comuni partner del GAL che questa proposta di finanziamento venga accolta dalla Regione. Credo che sia stato fatto un bel lavoro di condivisione con le parti sociali, con la popolazione, con gli imprenditori agricoli, con le amministrazioni e confido nel fatto che questa nuova tornata di piani di sviluppo locale possa rappresentare per Terlizzi l'occasione per valorizzare il buon lavoro fatto nel passato e soprattutto per rilanciare i nostri territori verso un futuro che ci consegna delle sfide nuove. Un progetto dunque che serve a creare reti tra luoghi, sapori, saperi e tradizioni per valorizzare l'identità del territorio, riunire e assemblare in un unico sistema le varie peculiarità locali e avviare un percorso che crea inclusione intorno ai diversi aspetti sociali, culturali ed economici del territorio. Questo l'impegno enorme del Galla Nuovo Fior d'Olivi fino al 2027 per una cifra di circa 5,5 milioni di euro. Una partita appena iniziata ma che avrà un unico vincitore alla fine.